ma ma dove sono? mi sono perso ah guarda un po' che si vede oh mio dio questa testa appena parlato no non sono la testa sono qualcuno rimasto trappolato per almeno due mesi ora voglio uscirne ma che cosa venite trappolati lì dentro? è tutta colpa di blu grigio per il giudice bellicano ma ma che dici loro sono di amici di dinosauri di animali buoni e anche di uccelli buoni loro non sono così cattivi ah non ti fidare di loro loro ti hanno solo mentito per i quadernini per fare qualsiasi cosa ma che dici io posso crederci perché loro mi hanno capito che io non sono uno spinosauro sono un allosauro ah non dare ascolto a quegli idioti ma ora ascoltami dovresti fidare di me ora dovresti capire che tu sei uno spinosauro non un allosauro che dici io credo allora eh avvicinati alla testa cosa ti posso dirtela più eh così eh avvicinati ancora più eh così avvicinati ancora più eh di più così oh che succede eh vedrai che cosa ahhh non mi dirai che ahhh cosa ne ahhh ahhh cosa mi stai mangiando no ahhh cosa mi stai mangiando ahhh ahhh nooo mio Dio mi sta mangiando tutto oh go go ahhh oh Ma che cosa mi è successo? Dove mi trovo? Ah 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 Vedi che sei in trappola adesso E chi sei? Fatti vedere Eccomi qua Ma mio dio ma tu sei un serpente? Esatto Sono un serpente E sono davvero cattivo Cioè molto cattivo Ma si può sapere come ci sei finito qui dentro? Ti ho detto Tutta a colpa di loro Di rinoceronte, blu, bellicano E anche quello grigio Ma che stai dicendo? Io posso crederci Mi hanno detto che cosa chi sono Che io non sono uno spinosauro Sono un alosauro Ma sta zitto Non fidarti di loro due Cioè di loro quattro Ma che dici io ci posso fidare No ascoltami Adesso dovresti ascoltare a me Ma prima mi dici dove siamo Tutto questo è la testa Siamo nella bocca della testa Ed è detto anche la camera della morte Ma che cosa vuol dire Camera della morte Camera della morte Vuol dire che questo è una trappola Che questa testa apre la bocca Solo per mangiare E mai per far uscire qualcuno Nel senso che si può morire qui dietro Oh mio dio vuol dire che anche io morirò così Oh no Forse sì o forse no Ma adesso mi ascolta Aspetta che mi devo sistemare le zampe Ecco Dimi pure Dicevo Questa lezione mi sembrava darle Allora tu mi ascolta adesso Sì se ora mi ascolta Ti ascolta Allora dimmi Quello che devi fare Devi fidarti di me Che cosa devo farti Nel senso che Usciremo da qui E ora vedremo un modo Finalmente così Avrò la mia vendetta Oh guardate c'è asino Eccolo qui Forza Basta che non diciamo tutto quello che è successo Ok Ciao asino Oh ragazzi Siete riuscite a catturare il colpevole Sì certo L'abbiamo catturato Ovvero l'abbiamo catturato insieme Ok Allora Come l'avete fatto Allora per il vivo tutto L'abbiamo L'abbiamo preso L'abbiamo chiappato Per il vivo L'abbiamo lasciato andare No Lo verbo Oh no Ma che cavolo Che c'è Non dovevo dirlo No Adesso l'abbiamo venuto tutto Cosa Avete lasciato andare Sì Che c'è il problema Ma no Che cosa avete combinato Ma voi Che Ma voi Siete dei pasticcioni Io sono proprio Nervosito per voi Oh ma dai Che c'è il problema No 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 Questo non si fa I veri detective Non sanno fare questo Sanno bene a catturare i cattivi A mandare in carcere E voi Avete Avete lasciato andare Ma no Stai tranquillo Tanto lui non era Un allo Cioè no Lui non era un spirosauro Ma mi si un allosauro Ah Un allosauro Ah Mi sono sbagliato Credevo che potesse mancare qualcosa Eh sì Li mancava la vera dosso Ma quindi adesso È completa libertà Eh sì Eh sì Perché Non dire che voi Volete lasciarlo così Eh sì Ma non dite sciocchezze Dovete tornarlo subito Ma no 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 Voglio Voglio subito vederlo Prendetelo subito Voglio subito vedere Questo cattivo Questo cattivo Nesba Tutto in carcere Capito Oh va bene Andai Ma sta calmo Andiamo a cercare E infatti Sarebbe meglio arrestarlo Va bene Andiamo Mi raccomando Picchiatelo eh Sì 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 Ecco Sarebbe meglio È tutta colpa di Blu Ho visto cosa ha combinato Già puoi dire forte Vero Eh infatti Questo non è giusto Mi sta cascando la felpa Aspetta È tutta colpa tua Blu Io che centro Sei stato tu a dire Tutto quello che è successo Non avessero avuto D'altrimenti Saremmo Abbiamo finito Questa Questa situazione Oh ma dai Non è Non è di così Dai No dai Annunziamo il terreno avanti Va bene Annunziamo il terreno Annunziamo Vai vieni Ok Ma amici Che cos'è questa puzza Ho trovato qualcosa E che cosa hai trovato Hai trovato qualcosa Non lo so Fuori Io ho cercato Ho trovato una cosa Torcinato Sopra c'erano tantissime mosche Perciò deve essere una cosa interessante È una cacca Blu Oh Una cacca Non ci ho mai pensato Potrebbe essere la cacca Della L'Alosauro Ha trovato È ruso Ma che schermo No Ma potrebbe essere Un inizio fondamentale Che schermo Porta ci piatta la cacca Non lo sopporto più E infatti Andiamo via A quanto pare Si sta fondendo Più troppo Oh la mia sciarpa E infatti Rinoceronte Questa è davvero una cosa Davvero strana E infatti E infatti Questo è vero Ma chissà che cosa si può fare Non lo so Oh ragazzi Ragazzi Eccovi Oh finalmente Mi stavo cercando a voi Oh Allo Savro Che cosa c'è il problema Mi ho trovato Devo essere uno del vostro aiuto E dice Che cosa hai trovato Ho trovato Mi sono sopravvissuto In una testa nera Con le corna gel E i denti bianchi Di scuolo Una testa Aspetta Ok dillo Una testa bianca Con la testa nera Con le corna gel E i denti di scuolo Bianchi Ma Ma Quello dove Dobbiamo intrapolare Le serpente Oh è vero Ma Aspetta Oh a te Dove hai fatto cadere Oh scusa Dicevo Ma come hai fatto Ho finito lì dentro Allora Si sono finito lì dentro Ma io ho incontrato Le serpente Ma Come hai fatto Allora uscirtene Eh Io sono uscito Perché Dobbiamo aspettare Dei uccelli Sì Dei Dele Dele Dei Dei guffi E quindi Io siamo saliti sopra E qui anche i cofessi usciti Ma che fine avete fatto Della testa L'abbiamo distrutto Con una dinamide Cosa Ma è impossibile Aspetta un momento Ma aspetta Ma aspetta Non è possibile Se questo è vero Vuol dire che anche il serpente È tornato in libertà E infatti è vero È una cosa vera bruttissima Che cosa Vuole imbedicarsi di voi Oh no Oh no Ci ha sentito Ci vuole imbedicarsi Di noi No Non può essere vero È infatti È vera ragione Non può essere vero È infatti Che cosa facciamo Non importa Dobbiamo andare a cercare Subito la tigre Ma che cosa vuoi fare Dalla tigre In che senso Nel senso Che dobbiamo liberare Dobbiamo trovarla subito Ma no Ma no Non voglio disturbare la tigre Lui è molto impegnato Secondo me Dobbiamo proprio farlo Che cosa Dobbiamo arrestarlo La lo sabro dici Eh sì No non c'è bisogno No non c'è bisogno Non c'è bisogno Non c'è bisogno Cerco subito la tigre Subito Bene ragazzi Il video finisce qua Mi raccomando Facemi sapere se vi è piaciuto Che cosa vorrà Lo sabro Cosa vorrà Dalla tigre Comunque cosa farà Se vuole davvero fidarsi loro Oppure è passata la parte Dalla serpente cattivone Ma chi lo sa Adesso ne farò un altro Adesso Ne farò oggi Ben quattro video No solo sì Quattro video Ma adesso Non ve lo scoprò Adesso lo scoprò Nel prossimo video Perciò Noi ci vediamo Ciao a tutti Ciao